Grazie a tutti. C'è un problema con la connessione troppo bassa e il traduttore non riesce a scrivere, ma possiamo fare almeno, togliamolo. Grazie a tutti. Ecco, abbiamo tolto il traduttore, poi magari faremo qualcosa con un altro programma più definito. In sostanza, ciò che vorrei presentare questa sera è qualcosa di miracoloso. Purtroppo la connessione è troppo bassa. Se dove sono io ci possono essere problemi di registrazione. Meglio che non tocchiamo più niente che la miglior cosa. Perché più andiamo a toccare, questi programmi non ce la fanno. A fare quello che vorremmo noi, il computer è quello anzianotto, l'altro ce l'ho che sta registrando in diretta in tutto il mondo. Con TikTok, con TikTok, con Instagram, con YouTube e con tutti i poteri che ho farsi per il mondo. Ma oggi cos'è che vorrei dirvi? E la cosa più importante è come curare e guarire dalle atrosi deformanti. Sapete quelle atrosi deformanti, braccia storte? Dita accavallate, braccia, ebbene potrebbe esserci una soluzione. Qual'è questa soluzione? La principale è avvicinarsi a Dio. Come si può avvicinare a Dio? Se qualcuno non lo sa, nessuno può andare a Dio. Se non, prima cerca Gesù. Perché Dio ha lasciato tutto nelle mani del suo figliolo. Lui si è lavato, lui si è lavato le mani e allora cosa c'è da fare? L'unica soluzione è cercare prima Gesù come uno pensa di cercare. Se non ci riesce, chiamatemi, andate nel mio sito www.gesùlalucedelmondo.it Ve lo dice già lo stesso nome. Dice io sono Gesù, la luce del mondo. Chi cerca me non starà nel buio, nelle atrosi, deformanti, ictus, tumori e altro. Non starà lì, perché avrà la soluzione al suo problema. Ma non è facile per qualcuno che vive in questa situazione accettare Gesù, perché sembra che questa persona è bisticciata con Gesù e con Dio. Perché lo odia, perché l'ha trattato male, dice lui o lei, chiunque sia. Ma io vi dico, non è vero. Siete voi che pensate questo. Gesù dice nella sua parola, venite a me, voi tutti che siete affaticati e io vi ristaurerò. Con che cosa? Non guarderà più quello che avete fatto, come vi siete comportati. Basta che voi lo cercate e lo troverete. Quando avete trovato Gesù, avete trovato Dio. E quando avete trovato il Dio e Gesù, lo fate entrare nel vostro cuore. E quando l'avete fatto entrare nel vostro cuore, avete trovato tutte le soluzioni. Poi, se c'è qualche soluzione da prenderle, a pedate o a schiaffi, oppure con altri arnesi, con la pistola vibrande che si accende di qua e massaggiare dove avete i problemi, dappertutto il corpo, nel cuore, nella testa, dappertutto, dove sono i vostri problemi. Ma questo potrebbe essere leggero per i vostri peccati, per le vostre angosci. Potrebbe essere troppo leggero, vero? Eh? E potreste avere bisogno molto tempo per fare la piazza pulita di tutto quello che vi percuote. E allora andremo per le cose più pesante. Questa. Questo rompe il cemento sulle strade, sui pavimenti, sugli muri e su tutto. Potrebbe bastare questo? Vediamo un po'. Forse, sì, da dove cominciare? Non cominciate dove avete dolore. Dovete cominciare dal cuore. Buttare via tutte le cose che vi assillano nel cuore. Le delusioni. Dovete ammorbidire il vostro cuore spezzando tutti i peccati che avete dentro il cuore che vi assillano. E allora cosa bisogna fare? bisogna fare questo. E continuare a fare ogni attimo che avete a disposizione non da soli perché vi fate male. Venite a trovare. E vi prendo al posto di mototipo. Come so io però. Non fatelo voi. Perché andrete all'ospedale. Non sapete cosa fare come attrezzarlo. starete male. Più male di prima. E allora. Prendete il numero di telefono nel mio sito. www.gesullalugielamondo.it vi contrattate dottori, medici, scienziati e venite a trovare. mi darò le persone. Dopo aver ammorbidito il vostro cuore dovete ammorbidire sia con le mani sia con la pistola ammorbidente sia con l'altra pistola che ci sono parti che bisogna andare dentro dentro quando schiacciamo bisogna andare dentro nel midollo dove si è creato l'artrosi deformante. Avete capito? Avete capito? Poi se ci sono altre spiegazioni ve le presenterò piano piano ma non fatele da solo perché fate danno ma un danno premento non vi azzardate a prendere il motopic e mettere nel vostro cuore. potreste avere un attacco cardiaco che si fermi il cuore state attenti di non farlo. Prima inginocchiatevi e chiedete perdone a Dio dopo accettate Gesù come vostro fratello e Dio come padre poi mi chiamate certamente io pregherò la preghiera è gratuita tutto quello che è preghiera è gratuito ma se io lavoro con il motopic e con altre attresi e quando venite estate due tre ore quattro ore mezza giornata con me che io devo lavorare con voi questo è il mio lavoro questo lavoro va pagato chiaro? non c'è niente che non va è chiaro questo è il mio lavoro studi che ho fatto alla presenza di Gesù questi studi vanno ricompensati mi sembra che sia stato chiaro nessuno sia nervoso e nessuno mi dica che Angelo Piccone si sta comportando da egoista qui non c'è egoismo qui non c'è egoismo qui c'è solo qualcosa che va rispettata nel nome santo di Gesù questo denaro non servono per me perché io ringrazio il mio lavoro che ho fatto nella mia vita mi ha portato a essere adesso in pensione e la pensione mi basta avete capito? il denaro che voi verserete andando nel mio sito troverete un IBAN post pay quel denaro che metterete un'offerta gradita a Dio e a voi ogni volta che mi chiamerete e verrete a essere ausati con il moto piccolo e con altre attrezzature perché lavorerò per voi volta per volta certamente se uno non ha denaro chiamatemi e vedremo cosa possiamo fare perché non lascerò nessuno a bocca asciutta in modo di cristiano non lascerò a nessuno a bocca asciutta ma chiamatemi dice Gesù venite a me voi tutti che siete affaticati e noi abbiamo un esempio nella Bibbia al Tempio una vecchietta ha messo due spiccioli e tutti mettevano a bozzeffa tutto quello che aveva un superfluo e Gesù gli disse questa donna ha messo più di tutti voi che avete messo il superfluo di quello che avete e così è c'è chi non ha sarà servita ugualmente perché non ha non può metterli non può fare l'offerta perché non ha ma se dice che non ha e poi ce l'ha io sono puro ci penso a Dio Dio è testimone non avete che fare con me avete che fare con Dio e con Gesù tra parentesi per accorciare il video perché farai il giro del mondo non vorrei disturbare tanta gente e non vorrei neanche disturbare in internet gli altri perché in questo momento sta girando anche l'altro video nell'altro canale negli altri profili in diretta e questo desidero subito portarlo in YouTube in Instagram Facebook già c'è qui però potrei allargare la cerchia in tutti i gruppi e in tutto perciò mi fermo qui la sintesi è come guarire gli atrosi deformanti quelli che dicono che non si possono alzare le braccia eh le mani braccia curvate quelle che non si possono girare non si possono girare non si può abbassare la schiena non si può toccare le dita e i piedi non si può fare niente non si può giocare a twist no? perché il corpo è bloccato allora ci vuole il moto picco attenzione non usatelo voi perché non sapete come usarlo vi fate male e adesso vorrei vorrei anche terminare con una bellissima treghiera e usando un pochettino di nuovo il moto picco per farvi capire che valido in tutto il corpo e allora usiamo prima il moto picco e poi preghiamo ok come avete visto nel cuore abbiamo già fatto la risultazione abbassiamo il quadro di nuovo farebbe gamma e vedete i miei piedi vedete se avete visto i miei piedi accavallati e in pochettino ... e e che guardiamo il Grazie. Vediamo, adesso che la presentazione è stata globale, vogliamo ringraziare Dio, a questo grande Dio, buono per i suoi figli, per le sue figlie, per le sue creature e per tutto il mondo che piega le ginocchia davanti a Gesù. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, veniamo a te per ringraziarti, per lodarti, soprattutto per benedirti e non per fare spettacolo, ma vogliamo ringraziarti perché tu sei un Dio meraviglioso, non c'è Dio come te. E padre, grazie che tu hai perso i nostri cuori, grazie che hai perso la nostra vita, a tutto. Ti ringraziamo padre, che oggi ci hai dato modo di presentare la potenza tua e non la nostra. E vogliamo dirti grazie per tutte le persone che farai guarire attraverso il tuo figliolo Gesù. Ti piegheranno le ginocchia e ti loteranno in tutto e per tutto. Grazie Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Dio è benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Chiudo il video per continuare con un altro. Addio volendo. rogo. Porrere. Grazie a tutti.